Allora ragazzi, adesso è Giuliano a Fortnite, che stiamo facendo l'inizio a squadre, vero Tony? Perché l'hanno ammazzato? No, l'abbiamo perso, il San D'Alvestra, l'abbiamo perso, l'abbiamo perso, Tony. Un po' sì, io andavo un attimo in mani, vai, vai, mi fa a fila, non la soca, ventisette, per un altro. Sì, una cosa, l'abbiamo perso, l'abbiamo perso, l'abbiamo perso, l'abbiamo perso, l'abbiamo perso, guarda, guarda. Ah si l'ho ammazzato ragazzi, l'ho ammazzato, l'ho ammazzato, l'ho ammazzato, l'ho ammazzato. Sì, abbiamo fatto uno, si, non è quello, invece l'ho ammazzato, l'ho ammazzato, l'ho ammazzato, l'ho ammazzato. 59, come è morto? ok guarda Tommy uno che era molto scemo perché l'ho fatto cadere la seconda volta non l'ho fatto cadere la seconda volta l'ho fatto cadere e poi è morto ma poi trovate anche quella caduta è scusa così e poi la vediamo ecco ma non faccio cadere se poi si spugna proprio sopra me la spugna si l'ho ammazzato l'ho ammazzato, peccino vai devo prenderci di vista ma non lo posso più o meglio e non mi sta gestionando oh mio dio oh mio dio oh mio dio oh mio dio l'ho trovata l'abbiamo persa quando sei più noi c'è il numero 14 mamma l'abbiamo persa l'abbiamo persa l'abbiamo persa l'abbiamo persa l'abbiamo persa non ho persa c'è il numero 14 no 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 non l'abbiamo persa l'abbiamo persa no no Non lo abbiamo perso, niente da fare, se devo riuscire il lavoro. Non so, non so più questo qua, se puoi chiudere questo qua. No! No! E l'abbiamo persa. E' un buon. E' un buon. E' un buon. E' un buon. Mamma mia. Preparati. Facciamo un po' di vista, poi la metà di vista. 15 minuti, ho messo 15 minuti e con un attacco per te l'avano. E' bene? 3, 2, 1. Scoletico, uno scoletico, uno scoletico, guarda, uno scoletico si non sente. Scoletico, andiamo al lato. Sì Giu perfettare Quine cosa stai facendo Eh? Quina cosa stai facendo Mi dice Cose non s'azone Ma tu hai scopo il mio il bluetooth? Non, non ha un bale mio Molto che era Non mi piace No è la mia scopo il mio Ma è la mia scopo il mio Non è la mia scopo No è un bale Non è la mia scopo è il tuo domino, è il tuo domino? Mi hanno pronto questo tue tre, e anche un'occasione, molto diverse i suoi soldatini colorati. Il mio caso è il silenziale bluco. Mi ha molto morto. Magrò sembrava ai miei blu, però non ci sono entrato. E io mi fai antoni un bel giro, lei è venito. Non. Allora, non c'è l'ocumità per, non c'è l'ocumità. C'è già salto, non mi potete lo scarletto io ho detto, non mi potete lo scarletto, ciao. Non è il pompa del normo, non mi potete il pompa del normo etico o lo scarletto? E' il pompa del normo e perchè non c'è il pompa del normo etico, non c'erano quello che c'erano. Ma qua non c'erano. si, non vede adesso la potenzione posso capire da più non mi ricordo si può capire si può capire ci può capire questo oltre alle armi oltre alle armi pessimismo al mondo di burocchi no no, va anche dall'altra parte va, va, va va, va va, va, va va, va è il bovolo potente è il piuotente del calento non lo riona il piuotente del piuotente il piuotente preferito L'ultimo potenziale, il podcast o los cani? C'è un posto legionario. C'è un posto legionario. C'è un posto legionario. E' la mia arma preferita. Ma fa male tanto la star male. La star dice a noi che vuoi ruotare. Ma se vuoi ruotare, vuoi ruotare. Povero il mondo stavo, poveretto. Se è bloccato. Ragazzi. Vai, vai, corri. Non so se vuoi ruotare. Un posto legionario non so se vuoi ruotare. Uno, 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 uno. Vai, vai, vai. Guarda, non so se vuoi ruotare. Oh, mio dio. Tu vuoi sembrare da che tu hai ruotare. Un po' ruotare. ... Scendo, vai. Oh, scendo a me. Allora, 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 allora. Allora, 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 allora. Allora, 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 allora. Allora, 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 allora. Allora, 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 allora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.